ciao ragazzi e ragazze allora e da un po' che non facevo video ASMR allora vediamo se riusciamo a rilassarci insieme spero il video vi piaccia allora ora farò di suoni e spero che vi rilassate allora accendiamo la candela sentite il suono io la truco questa candela allora cominciamo oggi vorrei fare questa cosa per te rilassati tu che stai seguendo il suono della mia voce visualizza un'immagine rilassa il tuo corpo soprattutto la tua mente ascolta i rumori ad esempio immagina l'intensità del cielo guarda il muoversi delle nuvole disegna col pensiero disegna col pensiero le immagini che vuoi ascolta sempre i rumori che ti circolano prova a sentire prova a sentire il calore del sole cerca di percepire dentro di te una grande pace una grande armonia visualizza ora visualizza ora i colori che ti circondano vedi l'intenso azzurro vedi il rosa vedi il lilla visualizza il bianco caricati di energia positiva rilassa completamente il tuo corpo ascolta i rumori rilassati completamente non pensare a nulla tutto andrà bene tutte le cose potranno essere risolte percepisci il soffio del vento l'aria che ti carezza il viso ispira ispira concentrati ascolta ciò che ti circonda ascolta ogni piccolo rumore ogni piccolo rumore ciò che ti dà una sensazione di pace circa di lasciarti andare all'abbandono di profumi che danzano nell'aria senti dentro di te sensazioni di grande serenità acquista una grande libertà sentiti libera queste grandi sensazioni ti porteranno un gran rilassamento calma pace e dopo aver visualizzato tale bellezza guida con grande calma il tuo corpo verso un beato e tranquillo riposo la luce della candela ti sta calmando tutto andrà bene ogni cosa si risolverà spero il video vi sia piaciuto se il video vi sia piaciuto sono davvero contenta buonanotte ragazze vi voglio bene al prossimo video